Ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video su GTA siamo in compagnia di Tucket Mods che ci presenterà la sua ultima creazione infatti questa gara l'ha creata proprio lui in persona ci racconti ingegner ingegner Tucket ingegner Tucket allora praticamente sta gara ha fatto il ponte Morandi spettacolare guardate che spettacolo giù avevo detto di prendere i trattori ma a quanto pare la mia lingua non è un italiano qualcuno mi sta investendo comunque vediamo adesso l'entrata del ponte appena ci arriviamo da qua già si vede qualcosa eh sì infatti il dito il mio dito medio si sta vedendo 7 schiaccio Tucket vediamo guardate che spettacolo credo che è stato il primo a creare una gara del genere gg per lui grande attacca esatto vedete quella che è questa questa che mi stia oh 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 ecco stanno investendo per gli altri ecco qua l'entrata del ponte facciamo un po' di car boosting col trattore oh chi di solare la data ai vettino come città ecco l'entrata guardate qua oh dio bisogna guardare davanti i ragazzi ma indietro perché ma del 15 la colo mamma mia però seriamente col trattore a forma di a proprio come l'ingegnere morandi ragazzi ho trovato poi dopo il nulla abbiamo trovato il suo lavoro da grande l'ingegnere di ponti guardate che spettacolo ha fatto anche le strisce pedonali guardate che robe no le strisce pedonali no sbagliate le strisce di corsia guarda che è pure tratteggiato quindi si può sorpassare la prima era come sempre bella bella sta carerita grandissimo trattato idea originale dentro della ruota guarda epico entra entra cioè concludi prima che occhio ai che gli trollo un acce di gara spettacolare guardate qua no 10 secondi non ce la faccio spettacolo non ce l'hai fatta sì sì all'ultimo secondo eccoci qua ragazzi in questa seconda gara di oggi questa gara l'ho creata io si chiama osiris super flip sarà la mia seconda gara che creo quei flip quindi spero che spero che non sia trollo giocato abbiamo ha lasciato le collisioni bellissimo tra lei si è divertente il primo flip ok guidato giriamo abbiamo già un giù davanti ho messo tre giri quanti giri hai messo tre giri che sei malato vai vai fai questi tre giri guarda che flip spettacolare andiamo io come sempre che ti carica tanto il video fai il video di 40 minuti ah no prima durata tre minuti prima questo dura un minuto e mezzo al giro ah un minuto e mezzo allora va bene giù non ammocca a te giù andiamo guarda target come trolla adesso te trollo io ah no quello la black no io ho trovato un giù sulla mia strada ah guarda lo sei tu quello vicino a me ero ma no andiamo 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 pass qui è primo qua c'è un altro pezzo il tubo bello bello ok troll però questo è un po trolloso questo tubo eh molto troll e cantoso qua velocità super velocità eccoci perfetto e qua c'è un altro flippete floppete che al buio si vedono meglio anche i cerchi guardate guardate che spettacolo ah no a me non ha funzionato è che per un po' del valore della droga viva la vita 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 acqua abbiamo un target davanti e mili hai visto ok che è stato per esplodere no occhio giusto occhio giusto apprende la crisi accettate su io come la prendo ma tu lo dico in il posto si evita il sole non batte dicevano gli antichi abbiamo che fa scusare frega la prima posizione o andiamo guardate va che spettacolo ma io non ho figo vediamo che abbiamo ancora un giro per recuperare comunque per creare sta gara ci ho messo mezza giornata per calcolare bene i flip se no i flip non vanno ed è un casino dai paschi trollati però lei no mi sai veramente da troppo no a te dove sono finito io alla perfezione alla perfezione no avevo la macchina danneggiata purtroppo il flip non è andato che lega bisogna stare attenti anche all'auto se sei danneggiata il flip non te lo prendi la dura vita dei flip che troppo ok adesso ce l'abbiamo la perfezione guarda qua dove sono tutti questi bimbini infatti vedete con la macchina a posto fanno la perfezione allora andiamo un po' ah paschi e black tiger ultimo giro intanto dai andiamo un po' questa mia bella careritos flippante occhio una posizione l'ho recuperata che strano ah che piesta fa? questa è pro là? no si ora mi sono trollato io l'ho chiamata due posizioni bene bene no ma devo rifare tutto madonna sta caro fa veramente una figura bella black tiger attenzione ragazzi guarda lo black no annaggia black vabbè vabbè non sono più e qua si frega la prima posizione vediamo chi ha fatto il record del giro terzo ducs ci sei ducs? eh sì sono quartero quartero? ero ultimero ahahah comunque è bella bella eh grazie ducs peccato che non avevi più pezzi perchè sennò pam terza posizione va bene così comunque se vi è piaciuto sto video lasciate un like iscrivete condividete condividete e romanaccio e non usciti andate dal canale di TucketMods a vedere anche le sue belle e care dite e niente per quest'oggi è tutto e non usciti e non usciti e non usciti a vedere anche le sue che si vede